Ed eccoci qua, la finale di Beauty Queen Italia è terminata, io sono in compagnia di alcune colleghe meravigliose, amiche della regione Campania. Le voglio salutare e ringraziare a nome di Simona Sventura e soprattutto voglio un parere caldo dopo questa lunghissima ma bellissima serata. Ciao Nikita e ciao a tutti di Piccole Magazine. Allora, è stata una serata bellissima, le insegna proprio della bellezza e devo dire che faccio i complimenti proprio a tutte quante. Un bacio ad Amanda. E allora, voi avete qui con noi la vincitrice dell'anno scorso, la seconda classificata. Cosa vuoi dire adesso che sei, usiamo questo termine, decaduta dal tuo titolo ma una Miss è per sempre? Sì, il livello oggi era veramente molto alto, è stato bello ritornare e rivedere il tutto dall'esterno. Quindi faccio i miei auguri alle nuove Queen e chi lo sa, forse tra qualche anno ritorneremo al Beauty Queen. Non credo, non credo in realtà. Però, come dici tu, le regine si è sempre. E le regine si è per sempre, ma la campagna anche quest'anno si tiene, si giudica il titolo ancora della Elegant Queen. Quindi, zia Tiffany, portati a casa ancora il titolo. Sì, anche quest'anno la campagna ha una seconda classificata purtroppo perché noi avevamo il primo, ma è una bellissima Queen e quindi facciamo un grosso in bocca al lupo per un fantastico anno ricco di successi alla nostra Atomica Elegant Queen di quest'anno. Quindi grazie a Atomica e grazie a Beauty Queen e a Simona Sventura che dà questa fantastica passerella e quest'opportunità a tutte le concorrenti ogni anno. Nikita, e parlando di bellezza abbiamo anche la madrina più bella dell'anno scorso. C'è la Sara. Sara, vieni qua, vieni qua. Abbiamo questa campagna che ci dà tante sorprese. Allora, la nostra madrina uscente delle più belle. Cosa porti a casa di quest'anno? Tante emozioni, tanta gioia, ma soprattutto di nuovo, come diceva la mia sorellonza Tiffany, di nuovo il titolo di Elegant Queen. Quindi significa che la bellezza è radicata in Campania e quindi tanti auguri Atomica e tantissimi auguri anche alla vincitrice del titolo Beauty Queen Italia, che non ricordo il nome perché sono una ragazza, Dalia, amore sei bellissima, complimenti Dalia. E allora grazie agli amici di Piccole Magazine, continuate a seguire, soprattutto continuate a supportarci perché l'esercito delle drag queen c'è e ci sarà sempre. Un'ultima cosa, posso? Evento strano, no voglio dire, io sono bionda dentro fuori ed intorni, evento raro, straordinario, la drag queen family show, è tutta riunita, che sai, durante tutto l'anno abbiamo gli impegni, quindi vogliamo presentare la nostra... Io sono la Cristal. Benvenuta Cristal. Eva Spaccalova. 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 Non sa perché. E allora grazie a tutta la family napoletana, ma soprattutto auguri alla Campania per i nuovi e i prossimi eventi. Seguiteci.